Obiettivo, restituzione del teatro comunale alla collettività per il 2026, anno dell'Aquila, capitale italiana della cultura. E l'obiettivo appare possibile dal momento che è stata pubblicata la gara d'appalto da oltre 10 milioni di euro per i lavori di completamento del comunale, come annunciato dal sindaco Biondi. Oltre a opere di tipe edile, di restauro e miglioramento sismico, sono previsti interventi sugli arredi, sugli impianti e sulla scenotecnica per una durata di 540 giorni. Prima dell'estate era stata firmata la convenzione tra il segretariato e il comune Lusra e la struttura di missione, con il procedimento trasferito dal segretariato al comune e all'usra, che ora sono stazione appaltante e soggetto attuatore. Lo scorso maggio era stato approvato anche lo stanziamento di 5 milioni di euro per ultimare le opere e risorse che si sono aggiunte a quelle già previste dalla ricostruzione pubblica, 9 milioni di euro. A luglio sono arrivati i soldi, adesso c'è questo primo passo e speriamo vada tutto bene perché sai, in Italia l'iter burocratico è sempre complicato, ci sarà questa gara, poi insomma vediamo chi la vince, se ci sarà il ricorso di chi arriva secondo, insomma bisogna andarci con i piedi di piombo, però sta tutto procedendo bene, quindi insomma l'appuntamento del 2026 è fondamentale, speriamo di coglierlo e di avere il teatro con i posti soprattutto a disposizione perché appunto quella è la cosa fondamentale, perché qualsiasi iniziativa tu possa fare di bello poi deve avere, la gente ci deve andare insomma perché se non sai dove mettere gli spettatori diventa complicato, quindi speriamo bene, è un buon inizio insomma. Questa mattina inoltre a Palazzo Silone l'assessore regionale alla cultura Roberto Sant'Angelo ha annunciato l'acquisto da parte della regione Abruzzo di abbonamenti per la stagione teatrale del TSA da destinare tramite l'ufficio scolastico regionale a studenti e studentesse delle scuole, una convenzione che mira a stimolare l'interesse dei più giovani verso il teatro. Abbiamo voluto come assessore alla cultura fare un gesto concreto, abbiamo attraverso il teatro stabile d'Abruzzo, doneremo 40 abbonamenti all'ufficio scolastico regionale e verranno distribuite all'interno delle scuole del territorio aquilano. Ci stiamo adoperando anche per allargare questa misura a tutta la nostra regione dove ci sono i teatri, perché abbiamo bisogno di ragazzi che tornino a vivere l'arte attraverso la cultura, lo spettacolo e quale miglior modo del teatro. Grazie.